a quaroli firma la nuova ordinanza didattica a distanza anche a pesaro chieste più sedi per la campagna di vaccinazione sopralluogo di asur alla celletta covid nuova impennata di contagi raddoppiano quelli del pesarese importante donazione della onlus gulliver per gli ospiti di casa aura una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura una flash di cronaca e vi mostriamo queste immagini registrate poco fa lungo la montella batese dove si è verificato un incidente che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare il conducente della vettura protagonista dello schianto ad uscire dall'auto il mezzo condotto da un ragazzo è finito fuori strada durante il viaggio le condizioni di salute del protagonista non sono gravi ma il ragazzo è comunque stato trasportato dai sanitari in ospedale per degli accertamenti sul posto oltre i vigili del fuoco anche la polizia traffico bloccato e auto incolonnate fino al distributore di benzina più vicino alla rotonda tra via delle regioni e via del lavoro sempre nel pomeriggio odierno i vigili del fuoco sono stati impegnati anche lungo strada del monte feltro dove intorno alle 15 sono intervenuti all'altezza della sede della team system per spegnere le fiamme provenienti da un autocarro in viaggio nel momento dell'accaduto l'area è stata messa in sicurezza in breve tempo e fortunatamente non si sono registrati feriti ed è arrivata questa mattina la firma del governatore francesco acquaroli alla nuova ordinanza che vede l'ingresso in zona rossa oltre che della provincia anconetana anche di quella maceratese le misure interessano però anche la provincia di pesaro urbino che da domani vedrà tornare attiva la didattica a distanza al 100 per cento nelle scuole medie in quelle superiori e nelle università si amplia il bacino di territori posti in zona rossa nella regione marche da sabato infatti oltre la provincia anconetana anche quella maceratese sarà inserita nella fascia di rischio più alta a comunicarlo è stato lo stesso governatore francesco acquaroli attraverso la sua pagina facebook anticipando la notizia della decisione presa e annunciando la firma della nuova ordinanza nella mattinata odierna le misure ha precisato il presidente sono state valutate insieme al servizio sanità della regione considerando anche le regole introdotte dal nuovo dpcm che entrerà in vigore sempre nella giornata di sabato l'inserimento in zona rossa delle due province marchigiane prevede tra le altre misure la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado con il ritorno della didattica a distanza al 100 per cento sempre secondo la nuova ordinanza il comparto scolastico subirà ulteriori restrizioni modifiche anche per le altre province della regione compresa quella di pesaro urbino da sabato e fino al prossimo 14 marzo la misura della didattica a distanza sarà in vigore oltre che per gli istituti superiori della città e per le università anche per le scuole medie le cui lezioni fino ad oggi si sono svolte in presenza rimarrà garantita la possibilità di svolgere le classi in presenza per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali oltre che per le attività laboratoriali il governatore ha parlato di decisioni assunte non a cuor leggero ma motivate da analisi tecniche e dall'osservazione dei dati epidemiologici che hanno reso indispensabili gli interventi messi in atto per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini marchigiani per la tenuta delle strutture sanitarie e per scongiurare il verificarsi di scenari peggiori e i medici di famiglia saranno coinvolti nella campagna di vaccinazione l'ufficialità sul raggiungimento dell'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria è arrivata in giornata dal governatore acquaroli a cui ha fatto eco l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini nei prossimi giorni inizierà la distribuzione delle dotazioni di protezione personale ai medici aderenti le forniture dei vaccini pfizer moderna e astrazeneca avverranno con cadenza settimanale ogni medico potrà vaccinare di volta in volta solo le categorie e le priorità stabilite dal piano vaccinale regionale a partire dai pazienti over 80 e dando priorità alle categorie dei soggetti estremamente vulnerabili acquaroli ha poi affermato che è stato aperto un tavolo con le categorie economiche produttive e con la camera di commercio per definire un protocollo per la somministrazione dei vaccini anche nei luoghi di lavoro nel massimo rispetto delle disposizioni sanitarie ancora in primo piano la campagna vaccinale perché dopo la richiesta pervenuta ieri dai sindaci dei comuni dell'unione del pian del bruscolo per aumentare il numero delle sedi nei territori interessati questa mattina l'asura effettuato un sopralluogo al centro monaldi per verificare le criticità emerse negli ultimi giorni durante le vaccinazioni degli over 80 e del personale scolastico rafforzare la campagna di vaccinazione regionale aggiungendo nuovi punti per la somministrazione delle dosi è la richiesta che arriva dai sindaci dell'unione dei comuni di pian del bruscolo i quali hanno sottolineato l'esigenza per i territori di pesaro valle foglia tavullia mombaroccio gabice mare e gradara di aumentare almeno a quattro il numero complessivo delle sedi previste dove effettuare le inoculazioni una richiesta già mossa alla regione dal sindaco di pesaro matteo ricci e che si è rafforzata dopo gli episodi intercorsi al centro monaldi nel quale durante l'ultima settimana a causa di alcuni problemi tecnici e dell'inizio delle somministrazioni per il personale scolastico si sono registrati diversi ritardi rispetto alle prenotazioni effettuate dagli over 80 noi chiediamo almeno quattro punti due su pesaro uno valle foglia una gradara come minimo perché abbiamo già visto in questi giorni basta la rottura di un computer o il mettere tutti insieme gli anziani con gli insegnanti che si crea il caos servono più punti noi stiamo mettendo a disposizione tutti i centri anziani che hanno già dato la disponibilità abbiamo già guardato grazie agli industriali diversi capannoni quindi dobbiamo cambiare registro perché così non va 10.000 ottantenni in un unico punto è difficile vaccinarsi 10.000 ottantenni più il personale scolastico è difficile vaccinarsi in un unico punto cioè sono numeri abbastanza chiari come ricordato anche dal presidente dell'unione pian del bruscolo palmiro occhielli l'individuazione di nuovi punti permetterebbe anche minori spostamenti soprattutto per le persone più anziane residenti nei diversi comuni e nei piccoli centri abitati ad oggi costrette a recarsi nella sede pesarese tra le strutture individuate quelle della casa della salute il palavitria valle foglia e il bcc palace di gradara metteremo a disposizione il nostro palazzo dello sport che insomma è una struttura nuova con parcheggi esterni molto ampi quindi con i servizi idonei per realizzare anche lì un punto vaccinale a servizio delle comunità vicine quindi tavuglia e gabice sicuramente nel frattempo questa mattina i coordinatori del dipartimento di prevenzione area vasta 1 hanno effettuato un sopralluogo al centro monaldi per verificare sul posto le criticità che hanno portato alle problematiche e ai ritardi registrati negli ultimi giorni più di tanto qui al centro monaldi come interventistica non si può realizzare perché i volumi sono quelli che sono gli spazi sono quelli che sono e quindi la soluzione che noi proporremo che abbiamo in testa è quella di affiancare più che sostituire il monaldi affiancargli un sito più capiente più ricettivo che ci consente di affrontare la totalità delle richieste che alla fine della vaccinazione degli ultrottantenni ovviamente dovremo garantire la popolazione abbiamo scritto al sindaco ricci per valutare altre location sul comune di pesaro comunque anche su altri comuni lui si è fatto portavoce per cercarci queste nuove location perché noi ci dobbiamo preparare alla vaccinazione di massa che non avrà i numeri che noi stiamo facendo al monaldi che comunque sono numeri altissimi perché noi ogni seduta vaccinale fa 800 vaccini questo sito quindi è il sito più importante in questa provincia in questo momento però non basta stiamo valutando un paio di proposte tra cui anche delle delle industrie che ci stanno degli imprenditori che ci stanno proponendo alcune soluzioni loro ci potrebbe anche un momento transitorio dove abbiamo due strutture vicine in appoggio al monaldi gli ultrottantenni sicuramente rimangono qua noi abbiamo allestito bene anche mettendo moquette come avete visto percorsi distanziati dovremo potenziare la parte di copertura per le zone prevaccinali in modo tale che le persone possano stare in un luogo per poter compilare la modulistica e anche perché ci prepariamo nel momento in cui dovesse piovere quindi ci dobbiamo preparare in questo modo ci porteranno delle soluzioni e cercheremo di prepararci entro lunedì a questa evenienza e intanto il monaldi per metterlo un po più in sicurezza come diceva il dottor carlotti per aumentare la recettività prevaccinale nello stesso pomeriggio il sindaco di pesaro matteo ricci ha comunicato che in attesa della moltiplicazione dei punti designati per le vaccinazioni sarà raddoppiato lo spazio alla celletta già a partire dalla prossima seduta vaccinale infatti al centro monaldi sarà affiancata la palestra presente nell'area e ora la pagina dedicata agli aggiornamenti covid sul nostro territorio il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7062 tamponi 4678 nel percorso nuove diagnosi di cui 1594 nello screening con percorso antigenico e 2384 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 22 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono mille e 27 con 228 casi registrati nella provincia di pesaro urbino in salita anche ricoveri nelle terapie intensive regionali con cinque pazienti in più rispetto alla giornata di ieri di cui tre nell'ospedale pesarese a cui si somma un aumento di altri dieci ricoveri nei reparti non intensivi 12 invece i decessi notificati nella serata di ieri dal servizio sanità della regione due vittime erano residenti nella provincia pesarese e sono stati resi noti anche i primi dati dello screening scuole sicure che in questo secondo turno si è allargato anche alle scuole medie della città alta l'affluenza con 1713 tamponi effettuati tra gli studenti 4 i ragazzi positivi riscontrati nelle varie scuole mentre nel turno pomeridiano di ieri che ha interessato i docenti e il personale delle scuole dell'infanzia sono stati 562 i test effettuati e 5 le positività riscontrate i numeri dei tamponi che hanno invece interessato le scuole superiori al campus verranno resi noti nelle prossime ore e questa mattina la onlus gulliver ha effettuato un'importante donazione a casa aura la residenza comunale per anziani nello specifico sono state donate quattro ciclette due sollevatori e due teli di imbracatura un gesto importante per gli ospiti che abitano la struttura e noi eravamo lì vediamo quindi qualche momento di questo evento con le prossime interviste il progetto gulliver si amplia sempre più persone vengono in via toscana a conferire i loro abiti immobilio oggetti elettrodomestici la gulliver con questi beni fornisce 140 famiglie per il reparto alimentare e 600 famiglie per quanto riguarda l'abbigliamento elettrodomestici immobilio il sul prus che è molto viene messo nella grande mostra via toscana come fosse unichè dell'usato con le donazioni che lasciano le persone riusciamo a fare un'economia per fare donazioni continue e opere in città oggi abbiamo visto la donazione di sollevatori e ciclette giorni scorsi abbiamo ripinto e pulito un'ala intera del mengarone a pesaro sono in ordine dei defibrillatori per la città di pesaro quindi diciamo è un continuo donare rimettere in circolo quelle economie che facciamo grazie alla vendita nel mercatino dell'usato quindi il nostro invito è quello alle persone dell'intera provincia di pesaro di portare in via toscana 111 a pesaro quello che non usano più ed è ancora utilizzabile per le famiglie bisognose o per l'economia collettiva ci tengo a ringraziare l'associazione gulliver per la donazione molto gradita di questa mattina strumenti assolutamente utili per gli ospiti di questa struttura e ringrazio il presidente bocca nera tutti i volontari per avere posto l'attenzione e verso una struttura importante come questa e soprattutto verso gli ospiti di casa aura che sono spesso persone non autosufficienti con patologie gravi quindi veramente un grazie molto sentito per questa bella donazione oggi abbiamo accolto qua l'associazione gulliver che praticamente ha donato a questa struttura dei sollevatori e delle ciclette per i nostri anziani voglio appunto ringraziare questa associazione perché penso che abbia fatto un dono veramente utile per questa struttura e soprattutto per l'attenzione che ha voluto manifestare verso i nostri anziani e diciamo che è molto gradito anche per gli ospiti perché questa pandemia un po' ha costretto diciamo a vivere soprattutto la struttura interna e anche perché non è dato più la possibilità loro di uscire per cui pensiamo che all'interno delle nostre attività e veramente questo dono possa essere utile anche a una movimentazione per le articolazioni e quindi già qualche ospite si è incuriosito e non vede l'ora insomma di iniziare questo questo tipo di attività Obiettivo Terre Roveresche è il progetto ideato e promosso dall'amministrazione comunale di Terre Roveresche in collaborazione con Plurale Com per valorizzare il territorio attraverso la fotografia un'iniziativa aperta a tutti i fotografi amatoriali e non che desiderano immortalare il territorio di Terre Roveresche per partecipare sarà necessario inviare il materiale fotografico privo di persone o volti riconoscibili alla mail terreroveresche.social.gmail.com che sarà poi inserito sul sito e sulle pagine social del comune. E sono tre gli appuntamenti organizzati dal comune di Pesaro per celebrare il prossimo 8 marzo la giornata internazionale dei diritti della donna. Il primo è in programma lunedì alle ore 11 ed è organizzato dall'Unione Donne in Italia che omaggerà la memoria delle sorelle Trivella, partigiane e feministe con un momento che si svolgerà nell'omonimo giardino a Villa San Martino. Si prosegue alle 12.30 con un appuntamento su invito nella sala del consiglio comunale con il riconoscimento Sara Levinathan a Graziella Gentilini Vitali. E infine martedì 9 marzo alle 17.30 si terrà Donne lavoro disuguaglianza ai tempi del coronavirus, convegno che sarà trasmesso in diretta streaming nei social del comune di Pesaro. E si è svolto questa mattina nell'auditorium di Marche Multiservizi in Via Toscana un incontro pubblico dal titolo Biometano e Compost di Qualità nel rispetto della salute e dell'ambiente per fare chiarezza su diversi temi legati alla realizzazione del biodigestore. Tanti gli ospiti e le figure di spicco che hanno preso parte all'evento che vi racconteremo dettagliatamente lunedì sera in prima serata su Rossini TV alle 21.30 con le interviste a tutti i protagonisti. Nel frattempo vediamo qualche anticipazione nel prossimo servizio a cura di Antonio Astuti. Biometano e Compost di Qualità nel rispetto della salute e dell'ambiente. Venerdì 5 marzo siamo nell'auditorium di Marche Multiservizi a Pesaro dove la società proprio che gestisce tantissimi aspetti della nostra vita di tutti i giorni ha organizzato un incontro pubblico destinato alla conoscenza del biodigestore che sarà realizzato a Talacchio. Un incontro davvero interessante. Sono stati chiamati dei relatori importanti, dei relatori d'eccezione che dovranno affrontare l'argomento dal punto di vista scientifico anche proprio per entrare nel merito di quelle che sono le questioni più importanti legate soprattutto ai rischi o meno della salute delle persone e dell'impatto ambientale che avrà questo biodigestore nella zona dove sarà costruita. L'obiettivo era proprio quello di dare la giusta e corretta informazione, una comunicazione nei confronti del cittadino e delle troppe e tante notizie fuorvianti che sono venute fuori in questi ultimi tempi. Il biodigestore anaerobico e compostaggio penso che sia un livello di impiantistica importante per il nostro territorio che va nella giusta direzione dell'economia circolare di completamento del ciclo dei rifiuti organici, degli sfalci e delle potature. Proprio pensando a tutto quello che è economia circolare, green job e next generation EU dobbiamo sempre di più credere fortemente che questo tipo di percorsi, questo tipo di impianti può essere la risposta giusta all'interno dei territori per creare innovazione e essere citati come esempi virtuosi all'interno dei processi e non andare sempre a portare degli esempi che vengono da territori lontani. Marche Multiservizi, in questo caso Green Factory, vogliono dimostrare nei fatti quello che hanno sempre fatto, cioè mettere a sistema la qualità della vita e la qualità ambientale. Professor Davoli, in linea di massima quindi non ci dovrebbero essere dei problemi per la salute di coloro che abiteranno nell'area circostante del biodigestore, considerato anche il fatto che comunque si parla come minimo di 8-900 metri delle abitazioni più vicine rispetto al sito. Tutta la parte di gestione anaerobica avviene in un impianto completamente chiuso, quindi l'impianto funziona in anaerobiosi, senza aria, quindi non perde, non entra e non esce niente di quello che si forma lì dentro. Fra l'altro quest'impianto diminuisce l'inquinamento perché leva lo zolfo, l'idrogeno solforato, che poi è uno dei responsabili delle formazioni dei cattivi odori. Noi abbiamo pubblicato un lavoro in cui abbiamo fatto vedere che questi impianti diminuiscono l'odore degli impianti di compostaggio che seguono. Amministratore delegato di Green Factory Mauro Tiviroli, il biodigestore sarà un impianto veramente importante, avrà un grande impatto da tanti punti di vista, oltre che quello ambientale avrà un impatto molto importante anche dal punto di vista sociale perché lei nella sua presentazione ha detto che saranno comunque impiegate almeno 40-50 persone nella costruzione e nella realizzazione dello stabilimento e poi una quindicina ci lavoreranno a tempo, si può dire, prolungato e indeterminato per il suo mantenimento. Confermo, sicuramente ha un impatto occupazionale importante sia nella fase di realizzazione, infatti sono stimate 40-50 unità nelle imprese che lavoreranno alla costruzione, in quelli che ovviamente costruiscono la parte tecnologica, così come saranno necessarie 14-15 unità per la sua gestione, quindi avrà un impatto occupazionale che anche dal punto di vista sociale si va ad aggiungere a quello che secondo me è un contributo altrettanto significativo nel contenimento dei costi dell'Atari perché con un impianto locale smetteremo di portare i rifiuti in giro per le altre regioni e quindi i cittadini potranno beneficiare di questo minor costo che si può essere stimato in circa un milione all'anno e quindi, come dico io, a me piacciono le moltiplicazioni, in dieci anni i cittadini della nostra provincia potranno risparmiare circa 10 milioni di minor costi nell'Atari. E ora parliamo di sport perché il supporto alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è arrivato di recente anche da una grande realtà come quella della Rema Tarlazzi che ha deciso di consegnare 84 WL Card ai suoi dipendenti. È un legame che è iniziato nel 2012 con la WL, proseguita negli anni siamo stati sempre fedeli come piccoli sostenitori, non è che riusciamo a fare grandi cose ma abbiamo sempre fatto parte del consorzio Pesaro Basket. Abbiamo aderito a questa iniziativa della WL Card sicuramente sull'artis del Presidente del Consorzio Luciano Amadori, un amico. Ho visto che questa iniziativa ha avuto un bel successo e allora l'abbiamo replicata dando la possibilità ai nostri collaboratori delle filiari di Pesaro, Fano e Montelambate di avere questa WL Card che consente di andare in diverse strutture commerciali e ottenere dei scondi particolari, tra cui anche i nostri negozi di illuminazione. In più hanno ricevuto in maggio una bella ferpa e una mascherina brandizzata. Iniziativa sicuramente abbiamo dato una piccola mano anche alla WL perché venendo a mancare il pubblico in caso del partito della domenica è stata una maniera per aiutare ulteriormente. Noi ormai sono ormai 9 anni che stiamo insieme con loro. È una stagione bella che ci sta dando soddisfazioni, in attesa sicuramente anche quella della Coppa Italia è stata una grande sorpresa per tutti e quindi Pesaro ha acquisito una bella visibilità su tutto il panorama nazionale come lo sport che l'ha caratterizzata per tanti anni. Noi siamo entusiasti di come sta andando. Speriamo di tornare al Palazzo e di vedere partite dal vivo. E questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Vi ricordo la prima serata di Rossini TV. Questa sera a partire dalle 21.15 potrete seguire lo speciale realizzato sull'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente con l'appuntamento del 26 febbraio scorso al Castello di Malleus a Recanati con il tavolo tematico prodotti e servizi per la cultura e l'educazione. Questa sera su Rossini TV in prima serata alle 21.15. Domani mattina invece le repliche della lettura del commento al Vangelo della Domenica cura di Don Marco di Giorgio. Le potrete vedere alle 10.30 e poi nel pomeriggio alle 16 oppure domenica alle 8 sempre nella mattinata e in replica alle 11. Sempre domani mattina torna puntuale l'informazione su Rossini TV con una nuova edizione della nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini in diretta alle 7.20 con voi ci sarà Marco Cadeddu. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro corso. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro corso.